Il rumore dell'acqua che piomba su cose e persone, le voci concitate di chi cerca di mettersi in salvo. Siamo in India, nella zona dell'Himalaya, a un picco di oltre 7.800 metri, dove una parte di un ghiacciaio vicino al Parco Nazionale del Nandadevi si è staccato ed è precipitato nel fiume, provocando l'innalzamento delle acque che hanno travolto ponti e strade. Almeno 150 i morti e tanti, tanti i dispersi. Sono le acque del fiume Alaknanda, alimentate da questo ghiacciaio, che si sono alzate a livelli tali da travolgere ponti e fiumi. I timori sono in particolare per la sorte di numerosi operai che lavorano in una centrale elettrica lungo il fiume. Per fortuna le squadre di salvataggio riescono a mettere qualcuno in salvo. Il crollo ha sollevato un'onda che ha scavalcato la diga, danneggiandola e ha causato un'alluvione improvvisa che ha travolto i villaggi sulle sponde. Il più colpito è il villaggio Rani, a circa 25 chilometri da Josimat, nello stato federale dell'Utkarand. Il governo centrale intanto ha disposto l'invio dell'esercito per i primi soccorsi. La zona è soggetta a questo tipo di disastri. Nel 2013 piogge monsoniche eccezionali provocarono oltre 6.000 vittime.